Allora, sono Luisa Bondoni, sono una storica e critica della fotografia. Dal 2004 collaboro con il Museo Nazionale della Fotografia, di cui oggi sono la curatrice, e insegno storia della fotografia all'Accademia di Belle Arte di Rimini e nel Master Post Universitario di Trieste, dell'Università di Trieste, in archiviazione fotografica. Allora, io sono da sempre appassionata di fotografia, e ovviamente quando ero più piccola era l'idea della fotoricordo tra amici, tra parenti. È una passione che non mi è stata tramandata da nessuno, in quanto nella mia famiglia nessuno ha mai scattato una fotografia in modo corretto, quindi è una cosa che è nata poi proprio come, con l'obiettivo appunto di fare memoria, di fare ricordo. Poi ho intrapreso degli studi letterari in conservazione dei beni culturali, quindi mi sono avvicinata molto di più alla storia dell'arte, ho sempre amato andare a mostre, andare a manifestazioni artistiche, e poi con l'università appunto ho capito che la fotografia poteva essere anche un qualcosa di più, e in particolare la storia della fotografia. E quando ho cominciato a studiare quelli che erano i processi antichi dell'Ottocento, che può sembrare una cosa un po' settoriale, un po' particolare, però quando ho cominciato a studiare daguerrotipi, ambrotipi, ferrotipi, quindi tutta la parte iniziale della fotografia, mi si è aperto un mondo che ho voluto poi approfondire. Ho avuto la fortuna appunto di entrare in contatto con il Museo della Fotografia per la tesi di laurea, e da lì poi non sono più andata via. Come riferimenti di autori, per quanto riguarda i miei lavori personali, io fotografo pochissimo, quel poco che fotografo è per me un racconto personale, quindi sono tutti progetti che nascono da un'idea, da un'emozione, da un qualcosa che mi succede, che poi prendono vita attraverso prima un layout proprio disegnato, per poi diventare delle fotografie, e mi piace moltissimo lavorare sull'autoritratto, e mi piace moltissimo lavorare con la fotografia istantanea. Se invece devo fare dei riferimenti più larga scala di fotografi che mi appassionano, che io amo veramente in modo viscerale, sono da una parte Eugene Smith, quindi il più grande secondo me fotoreporter di tutto il novecento, perché è riuscito proprio a far compenetrare completamente la sua vita con la fotografia, rendendo delle icone universali le sue immagini, e dall'altra invece il genio creativo di Philip Halsman, che nella sua follia è riuscito a creare dei lavori assolutamente straordinari in un mondo che ancora non aveva una post-produzione così potente come quella che abbiamo noi, anche se sappiamo che poi Halsman era un grandissimo mago della camera oscura, quindi moltissimi dei lavori poi venivano manipolati in camera oscura, però se noi prendiamo semplicemente il Daliatomicus, è un lavoro, è una fotografia che è stata fatta davanti all'obiettivo del fotografo, quindi ci vuole veramente del genio e della creatività incredibili per riuscire a ottenere quel risultato. Io ho a che fare molto spesso con archivi, che sostanzialmente sono ancora degli archivi storici, sicuramente la mia parte culturale, la parte dello studio della fotografia mia è fondamentale nella conservazione, nella promozione, nella valorizzazione di questi archivi che per la maggior parte sono degli archivi che sono anche di fotografi sconosciuti, che poi io dico sempre andrebbero maggiormente valorizzati proprio perché non hanno niente di meno rispetto ai grandi autori che noi conosciamo sui libri della storia. Sicuramente credo che riuscire a dosare quello che è l'aspetto della curatela di un archivio storico vada di pari passo con quello che è anche la contemporaneità perché il supporto, ovviamente i supporti cambiano, ma quello che per i fotografi di 70-80 anni fa non era importante lo è diventato per noi oggi e quindi ha rappresentato delle tappe fondamentali. La stessa cosa varrà per quello che si sta producendo oggi per il futuro, quindi sono ovviamente degli approcci diversi ma che sicuramente hanno un valore equivalente a mio avviso. Poi sicuramente la fotografia contemporanea ha preso canali, ha preso contaminazioni che sono diverse, però sostanzialmente sempre si tratta di un qualcosa che ci sta raccontando un preciso momento storico, un preciso autore e la sua visione. Io insegnando storia della fotografia mi capita spesso di dire che è già stato fatto tutto, perché in realtà quando si pensa di aver inventato qualcosa in realtà si va nella storia della fotografia ed è già stato fatto, però quello che è fondamentale secondo me è quello che diceva poi Ghirri, cioè di guardare sempre le cose con occhi nuovi e nel momento in cui si guardano le cose con occhi nuovi si contemporaneizza il progetto, la fotografia, gli si dà la propria dose di bagaglio personale, quindi anche se è già stato fatto tutto in realtà dobbiamo ancora fare tutto e quindi credo che questo sia un aspetto importante anche per quello che riguarda la curatele, quindi è quello a cui dare attenzione e valorizzare rispetto appunto a quello che è già stato fatto anche in passato. I cosiddetti lettori della fotografia sono una parte importantissima e riuscire a far entrare anche persone che magari non hanno completamente le basi o i presupposti per poter leggere la possibilità di rendere fruibili dei lavori che magari molto spesso rimangono nascosti oppure rimangono un po' per l'elite di solo di chi può comprendere diventa fondamentale però qui deve essere fatto anche un lavoro precedente nel senso quello dell'educazione all'immagine che secondo me dovrebbe partire fin dalle scuole soprattutto in un momento in cui davvero i ragazzi vedono costantemente tantissime immagini ma non hanno i mezzi, gli strumenti per poterle comprendere appieno soprattutto adesso nell'era anche dell'intelligenza artificiale in cui sorgono sempre i dubbi se sia o meno una fotografia e per me fotografia è presenza, è oggetto fisico e quindi è un qualcosa che è stato davanti alla macchina fotografica e che poi trova la sua fisicità in una stampa qualsiasi tipo essa sia quindi l'educazione all'immagine diventa fondamentale fin dalla scuola purtroppo viviamo anche in un tempo storico in cui addirittura nelle scuole vengono tolte le ore di storia dell'arte quindi figuriamoci quanto dovremo aspettare per avere l'educazione proprio all'immagine però i lettori sono fondamentali perché fanno parte di quella triade della lettura dell'immagine che è costituita dall'opera, dall'autore che si porta dietro tutto il suo contesto storico e tutta la sua preparazione, la sua cultura e poi il lettore perché non è detto che una fotografia che oggi ci piace moltissimo e che capiamo fra tre mesi, quattro mesi, cambiando noi cambierà anche la percezione che noi avremo della stessa a me è successo con alcune fotografie che già conoscevo, che avevo studiato che mi avevano dato un senso che poi durante il covid, durante la pandemia mi si sono trasformate completamente ma perché era cambiato il contesto sociale e anche l'umore e quello che noi stavamo provando allora, purtroppo mi è capitato di sentire da colleghi, da altre persone che la fotografia è morta o sta morendo insomma è un po' agonizzante in realtà, vabbè, se ci pensiamo a quando era nata la fotografia che era stato detto da Paul La Roche della Roche che la pittura sarebbe morta poi quando è arrivato il cellulare comunque si era già detto che in qualche modo la fotografia sarebbe morta in realtà la fotografia, secondo me, è vivissima perché basta guardare il panorama anche semplicemente italiano che noi abbiamo la fotografia è vivissima e si dovrà basare, secondo me soprattutto banalmente su quella che è l'idea del fotografo quindi autori che devono essere preparati da un punto di vista proprio personale cioè da una formazione che è data dalla curiosità dalla voglia di imparare di vedere di confrontarsi e ovviamente di portare quello che è il proprio bagaglio di esperienze e secondo me la differenza la faranno quegli autori che riusciranno a seguire tutto quello che è il processo creativo quindi partendo dalla formazione dall'idea passando a quello che è lo sviluppo della fotografia quindi lo scatto in sé ma anche la matericità che avrà poi l'oggetto finale io sono forse perché sono una storica forse perché sono legata all'ottocento io sono per la fotografia da tenere in mano per intenderci quindi tutti quelli che seguiranno questo progetto secondo me forse rappresenteranno una nicchia ma saranno quelli che recuperando forse anche il passato riusciranno comunque a essere innovativi quindi per me dovrebbe puntare su questo sulla fisicità mescolata all'idea quindi la capacità di dire ok ho un'idea ma so già che nel mondo quella fotografia avrà quell'aspetto